musica 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 ma che parlo massa ma che quando che parla no? che se parlava in 3 secondi minuto intervenivo e mi dice spesso che la voce passava tipo che è una tonalità che mi dico mi fa quanto bene che ti voglio quando mi voglio sentirti quando ti sei imbriaco perchè mi imbriaco che mi so di parlare? ma io non sono mai imbriaco quindi ti sei a posto anche agri che so una voce che ci possono Marco è uguale quindi faccio i video smr non ho bisogno non ho bisogno ma è come quando che fa e la moglie di Oreste senti che parla di Dio che sei Franz bene Franz croce da donna wow bellissimo Franz con la figa allora vengo tu a me come è a botte? ehm sì non è da canceo dipenderebbe da cosa da fra.. da 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 no adesso vediamo due adesso ci serviamo fin dove arriremo? arrivo windows fin da qua tubo del pulitrice comma fermo il ponte ma tu hai visto che si muove cosa si è che si muove, si è la barra che si flette ti impedisce di spostarti più di così si disattiverà in quattro metri maria verdine, si fette franzo oggi a butta io macchinario, stamattina ieri 5 sveglio, non mi fa mai la riccia di la riccia e la sinistra, ho visto che c'è un colpo d'aria che cosa, ho visto che adesso non manca mai la riccia mi giro anche l'altra parte così, va via la riccia e la sinistra, dopo un'ora mi fa mai la riccia a destra ho visto che sei adesso o sei a sinistra, dopo ho spiegato tutto ho visto che è qualcosa, mi sembra stato un ragneto, un altro vento oppla bene direi che ho fatto la cagata anche stasera, adesso la risolvo aspetta 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 e voilà magia se spettete, hai capito invece che il dottore giornale mattina o il bar che c'ha quella di tutto e di più che si dice che qui ha capito, qui non manca un petto ma qui hanno una porta di giocatore, qui si si muda bene anche gli uomani si parla come efei ma non so che efei ma non si fa problemi gli altri che ne parliamo apertamente, si è quella di farmi comunque quasi finito, vi farò una foto no no, quasi finito, mi inviti a il sito, e prima a visitare la casa, per visitare la casa il tour guidato e 50 euro a persona e il manico cuore ora anche questo caso bianco magari te manfia un te, devi schicciare l'interruttore e te sporghi il muro no no ma se è manco chi intende in camera come mi ha un te? a parte quello, ma comunque, Dio boh, e ora di casa mia, onestamente, non mi pare di avere intorno a anche ma che in capono a lama, il muro bianco con l'interruttore figa, è un interruttore giunto nero però leo simi e bianco un avorio? no è un misto tra bianco e grigio brava, ok ma ha fatto anche i led sulla tastiera e il letto? no, io ero in progetto intorno alla stanza ma il letto posa il muro o il letto centro camera con libero parte per parte, che ti monti sia a destra che a sinistra del letto? no, posa il muro il letto, se vuoi posare il muro ciò no, se vuoi te batti e ti sfondi a posare il muro e c'entra senza il tuo letto matrimoniale o lo puoi posare il muro? se vuoi posare il muro i letti? se no, metti uno te a sale e ti puoi assaiarti anche alle salle mentre così ti hai chiesto tra i lati a temere il letto matrimoniale non va a messo il muro se no quello che va a montare a destra va a montare se vuoi posare insieme anche altro il muro qua ti stierano? esatto eh ovvio, quello mi pare abbastanza scontato ma mi parlo anche del lato ti hai detto il centro stanza? mi pensavo che mi dici che hai detto in me della stanza proprio no, no no le cagate delle 21 e 45 vabbè guardi che il cancello aspetta che porto il trattore all'uona vedi che il cancello la lo cavo no fa una super elevata diavolo ogni volta no, metti caso che se gira davvero spazio anche per buttarsi ma non vuoi il matrimoniale ti piace il matrimoniale? si ma materasso è unico si ti vuoi fare due ottimo che buono e fare un panidio e anche quello che dormo adesso che i tuoi matrassi ti chiamiamo singoli e ritirano chiusi dalla foto si anche a me ha fatto così ma è perchè quello che ho ormai è enorme, ti fai una fatica quando rimane l'ora di cambiare lenzuola e roba così sei un figa comunque perchè te che il matrimonio è 2 giugno ah no basta non vengono fuori qui adesso si divertiva come lo siamo l'ultima sera non si sta proprio l'expload niente, io ero proprio pessimo questa settimana che arranco hai detto perchè sei un figa sei un figa mi ho misurato la pressione come ieri 98 su 60 60 battiti al minuto ho detto ho detto maledetti gli altri vostre serate eh sì sai tu non mi hai fatto che ci fai motivo ecco gloria che cosa eh esatto eh di una mosaica piante ad un alberi di coca perchè se no qua tu mi viena di madonna mia cosa l'ho fatti chiorn 다 non ha ricordato di cambiare il nome ma figa ascolta Gaviare il camionale Eh, appunto, ma che cazzo... Eh, per fortuna è salta fuori a Marco? Eh, questo no. No, guardate che non si vede un cazzo, quindi... Ciao! Minaca ha visto perché corri... Minaca mi ricorda il mio nome. Bisogna cattare la ossa del camionaro. Mezz'ora dopo? Mmm... Questa da camionare, no? Eh, ti fai il giovane sbarbatello che guida camion. Esatto! Eh, anche. Pesteggista. Eh, va bene così qua, voi sei mia originale. No, cosa cosa? Tu hai coglioni su Kai? No, sei originale qua. No, dico, mi parlo normalmente qua, voi sei mia, però sei modificato. Eh, un po' si. Bisogna prima aggiungere una leggera modifica. Bene, guarda questa parte qua, grazie mille. Ahah! Vero e me lo ricordo, perché a meno lo dico nel video. Dopo te, eh? Sì, sì, aspetta che te in questa parte qua mi fai una bestemma, un porco. Ahah! Non dite che sia, niente che sclera, il bustegnere che parla sola, dite che te bestemmi contro la Dea. Tutto che sita? Sì. A me viene, non so. Sì, veng, inven. Inven, inven. Ma hai fatto il marocchino? Eh. No. Eh sì. 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 Sì, va bene. Questo è Adam. Ma cavate il capello, fate brizzolato qui, Rasta. Allora aspetta, 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 che cavo il capello. Madonnas, il terzo del capello. Non puoi lanciare il capello che ha sposto qua. Là. Dove registro cagato. Questa, no? Qui Rasta. Chi Rasta? Qua sei? E che sei la... ...capigliatura Rasta? Ma no, non penso che che si impiega Rasta qua. Che sei questo? Ma non ho visto Rasta. Mario qua. E la seconda riga è il secondo? Ma guarda che ti decide a vestire ancora la femmina? Vabbè, io fai testi. L'uomo è sempre compagno. E l'uomo ti ammetti proprio l'ultimo uomo. Va bene, dai. Resta così con i guanti. Tutto così. Guarda che mondo insieme al camion. Scusate che mondo insieme al camion. Mi raccomando il linguaggio che è semi italiano. Italiano barra straniero. Italiano? Io potrei parlare italiano? Qua c'è una rampa e lancio per i missili. Fanno via la trinciala. Eh sì, ma posso liberare un'altra roba. Posso ritornare come Marco 03? Sì. Sì, penso sì. Salvate in posizione roba. Se si serve. Vabbè, c'è la cosa, c'è la femmina. E dopo mi modificavo un fiammina a vosso. Ma se che si chiama femmina? Femmina. 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 Dio, povera. Come a un livello d'inglese. Che è una sucata che è PCDB. Ah, immagino. Ma che roba. Eh. E che non abbiamo ancora finito la roba a caricare. C'è perché non sono buoni che a Sara è imbagliatrice. Se no, ti vediti. Mio santo. Vabbè, dai, fermo che... Ma secondo me, il primo cuore è che ha crema su tutto. Dai, fermo che la roccia. Eh sì! Fatti cinque, Marco Ceo! Ma... Ho avuto un leggero buffering adesso. Sono zappanese. 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 Sì, ma aspetta che ti porto via questo. Vado a passare. Sì, guarda che... Fermo! No, fermo! Vado via! Mi sono andato a registrare che vado via via. Eh, per me porto in strada intanto. Vado a passare però. Sì, andate te che ha pochi strada intanto. No, ti porto in strada. È proprio lui. Ma che roba. Bello, bello. Il ferro vecchio. Un po' di roba. Ma aspetta cosa sai che c'era che andava su a ampliare? Gli carica anche la roba degli ampliamenti. No, no. Eh, espandi concime. No, espandi concime. Calci. Espandi calci. E ora vengo su a parte con quello. No, l'imbagliatrice. E l'imbagliatrice a vendere. Cioè, qui non mi stava. Eh, non che stava. O forse sì. Vedete. Che c'è? Ho ancora un buzo. È il cassone del rimorchio. Come fai a canicata? Ma sei capota. Ah, va, eh. Ah, succede dai. Non devi rovinare tutta l'opera d'arte. Sì, dai rimorchio se è pendente. Peso della torre di Pisa, va che roba. Guarda che muccio che mi amanti. Vabbè, è il mio copio che faccio da scorta. Sento che valuta. Devi comprare, Marco. È un po' di roba. Però c'è una roba. Oh, però guarda da distante. Sì, è che però c'è una roba in più che non ho mai visto fino adesso da ogni anno. Guarda che aveva. È un po' di bambino. Cosa? Che cosa? Sei che mi amanti per me, è il mio copio di Mettric. È un po' di più di Mettric. È un po' di Mettric. Ah, vai, 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 vai. No, vai, vai, vai. Ha, hai, vai, 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 vai. Sì, è un po' di Mettric. È un po' di Mettric, già era paivini e muccolina. Mà, tanto che mi se frega, è un po' di Mettric. Dio, mamma, è un po' di Mettric. È un po' di Mettric. O c'è un po' di Mettric. Ebra che roba qua, quel tuo giugno avevo il matrimonio con la mia cugina Se il cane non aveva bene niente, mi hanno detto che manca tutta roba Dio, povero Ti sei ingrassato, ti sei un ciccio C***o, ho messo su 10 kg Ehi, dai, su Ehi, dai, su Infatti era 9,99 Ciao, in settimana ho messo 32-35 gradi Se ti metti un bambino con il 10 spugliatore, ti mangi un'erba, saiata e i mestieri bagui E ti sei a posto, e soprattutto erba Ma non lo fa già, quello? Ah no? E anche stamattina ero fiacco, ti uomini, non so Il caldo, ci sarà qualcosa che non vanno, non so Ha decennato spasso, oddio, ho deciso da cadermelo stufo E con questo abbiamo concluso, grazie dell'attenzione e arrivederci Bella raga!